Ciao, questo è il mio secondo canale Non ho ancora caricato i video, questo sarà il primo Su questo canale carico tutte le altre cose che non c'entro con i giochi Per esempio... Boh Comunque se il mio canale, il primo canale si dovesse chiudere perché Ho riscontrato dei problemi con i copyright di qualcuno Che almeno mi sembra, non l'ho ancora fatto nemmeno uno Credo ci sono tre... come si chiamano? Tre, diciamo, strike Al terzo strike ti bannano il canale, cioè ti bloccano il canale Se questo dovesse succedere potrò qua informarvi Basta Vi consiglio di scrivervi se dovesse succedere Se no, beh, pazienza, non posso farci niente Arrivederci